Buongiorno a tutti, sono Diego Valsesia, responsabile per la promozione di Elan in Italia. Oggi vi presento una novità per quanto riguarda il mondo donna, uno sci da pole mountain da pista, si chiama Insogna Elite, tecnologia particolare, quindi trolline technology, la particolarità è il fatto di avere destro e sinistro, nel senso che la struttura dello sci, l'asta, è divisa in due parti, quindi la parte interna un pochettino più strutturata, quindi uno sci che tiene sotto il piede, mentre la parte esterna è più morbida, quindi aiuta molto al fatto del collegamento tra le due curve, tra l'uscita curva e l'entrata della curva successiva. La particolarità di questo sci è il fatto di avere veramente uno sci molto fine nella parte quella che rimane la parte esterna dello sci. Rispetto agli altri della famiglia Insomnia questo veramente è stato ricercato, questa parte molto più fine che dà una bella maneggevolezza allo sci ma allo stesso tempo una gran tenuta sotto il piede, quindi un sci veramente performante per quanto riguarda il mondo femminile.